Buonasera a tutti, benvenuti a Medellina, ringrazio Carlo per la specialità che ha deciso di iniziare questo percorso con noi come vedete il palco è tanta tanta roba e i musicisti di certo non sono da meno e iniziamo questa nuova avventura, io ringrazio Marcus, che è Marcus Sondor la nostra resident made by Wabi Sabi con Giorgio, mi dita la voce Giacomo Cattinese, la batteria Giorgio Susanna Arbasso, Wabi Sabi siamo molto ricordi perché si sono incontrati sul nostro palco e dal nostro palco hanno deciso di partire con un loro progetto è una cosa che ci fa, è veramente tanto tanto piacere perché condividere il loro progetto con noi ci tengo a dirlo in forma di una mente di un'attività di una di queste gemma è tanta roba grazie ragazzi allora, come al solito, banchetto per l'escrizione della gemma, banchetto dove vediamo queste bellissime magliette e facciamo un spazio della musica Marcus, resident per Giorgio, buona serata